Sono qui giovedì perché dovevo fare l'affiancamento e poi sono tornata a vedervi e con Juan Marcos eravamo rimasti d'accordo che avrei cominciato oggi, quindi lui mi ha detto ok ci vediamo lunedì però cominci martedì, quindi io ieri sono venuta con tutta calma alle 3 e tranquilla sono arrivata qua e ho detto e quando? Ah Juan è venuto stamattina, ma se ne è andato, ho registrato, quindi abbiamo appreso il panico era una risata esterica la mia, comunque ho estratto queste notizie velocemente da internet e nel giro di 25 minuti mi sono ritrovata lì che non sapevo bene quello che dovevo fare, però è stato molto bello, poi diciamo che dalla prima all'ultima fino è andata molto meglio perché sì, però veramente è un'esperienza bellissima, 5 ore intensissime, passano veloci e sei lì a cercare notizie, a pensare come lo dico, come non lo dico bello, sarà molto bello Mi hai fatto emozionare Grazie 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 Grazie